Lettere dall'ignoto. Il vuoto della coscienza è la pienezza dell'essere. Oggi sembra di vivere sopra dei cocci di vetro. Ogni passo è incerto. Ogni perdita di coordinazione rischia di farti crollare e di sfondare il leggero strato sottile di vetro che separa la tua normale quotidianità. Quell'abitudine in cui ti sei barricato. L'abitudine che ti protegge. Sì, proprio quell'abitudine che sa di casa e di conforto. Quell'abitudine in un sol soffio. Oggi può essere spazzata via. Facile sbuffare, lamentarsi della giornata e non fare nulla. Andare avanti con la propria routine mentre i segnali di allarme sono ormai manifesti tutti intorno a te. I più deboli, le persone meno abbienti, le persone più fragili iniziano a piangere negli angoli delle strade, sui treni, su pullman. Il cielo si fa cupo e qualcosa sembra voler rovistare all'interno delle tue viscere e separarti per sempre dalla tua anima. Renderti vuoto. Credete sia un'esagerazione? Credetelo pure, ma vi assicuro che tutto questo è reale. Qualcosa si sta insinuando nelle vostre coscienze. Qualcosa di simile ad un virus e vi sta conducendo verso il baratro, o peggio, verso la vostra disarticolazione dell'anima. C'è qualcuno che vuol separarvi da tutto ciò che è caro, tutto ciò che è amore, tutto ciò che è casa e voi lo state a guardare fissi. Lì, come imbecilli. Credete che non stia facendo nulla e intanto tutto il mondo attorno a voi diventa cupo, grigio e senza vie ed uscita. Dead End si dice in inglese, ovicolo cieco. È anche una famosa canzone degli Inflames. Dì le tue ultime preghiere. Credo che abbiamo perduto il presente. Non c'è futuro. Nessuno è intorno da biasimare. Questo è ciò che accade quando ci si lascia bindolare dal progresso, dalla scienza, dalla tecnica, da questa società impazzita che spinge, divide ed arricchisce solo pochi, pochissimi, che ne tengono sempre più in mano le redini. Eppure gli alberi crescono, il sole sorge, la natura canta e tutto trasmette armonia, mentre, guardando al futuro, si vedono solo il freddo delle macchine, l'avidità e l'ingordigia dei potenti. Tutto questo non può andare avanti. Ascolta il nucleo fragile, pieno di ferite che sta dentro di te. Sentilo parlare. Vorrebbe semplicemente crescere come un fiore, donare la propria bellezza agli altri, mentre qualcosa lo incatena e gli impedisce di alzarsi. È il vuoto della tua coscienza, o forse sarebbe meglio dire il nulla della tua coscienza, che invece vorrebbe tornare ad essere tutto. Vorrebbe tornare ad essere uno. La tua miopia ed avidità ti stanno portando all'autodistruzione. Più si è avidi, più si ha paura e più si acconsente a questa società di soggiogarci. Attenzione, è pieno di insidie, smart working, distanziamento sociale, distruzione dei rapporti, condizionamenti fin da piccoli. Uscite da questa trappola, è pieno di distrazioni tentacolari che cercano di rubarvi la cosa più importante che avete, che è il momento presente, e oltre a questo non esiste nient'altro. Il mondo moderno propone soltanto distrazioni per uscire dal dolore, ma solo momentaneamente. Si oscilla tra la distrazione e quella sensazione di vuoto coccente che fa ricercare nuovamente una distrazione per attutire il dolore. È un circolo vizioso che, se continuamente alimentato, potrebbe mandarci fuori controllo. Ci si potrebbe sentire quasi senza una struttura vitale se solo, ad esempio, ci venisse tolto il telefono. Un'inquietante intervista condotta qualche anno fa indagò sulla più grande paura degli adolescenti. Questi risposero che gli venisse tolto internet. Il mondo pare essere diventato virtuale e l'uomo dipende da questa virtualità, ma il virtuale è impermanente, soggetto alla distruzione del tempo, come tutti noi, e non ha nessuno strumento in sé per farci uscire dal tempo e dal dolore dell'esistenza. Anzi, è un mostro che ci porta via con sé. Diventa una droga di cui non si può fare a meno, anche se ci fa male. Questo scrisse Emil Zola nel romanzo La bestia umana a proposito della tecnica e della tecnologia, paragonandola ad un treno che viaggia impazzito senza conducente. Che importanza avevano le vittime che la locomotiva travolgeva con la sua corsa? Non si precipitava forse verso l'avvenire incurante del sangue versato? Senza conducente, in mezzo alle tenebre, come una bestia cieca e sorda, correva verso la morte, carica di carne da cannone, di quei soldati abbruttiti dalla stanchezza e ubriachi che continuavano a cantare. I viaggiatori del treno sono la metafora dell'umanità progredita. Quello era il progresso. Tutti fratelli diretti, tutti insieme laggiù, verso Cuccagna, pensava la protagonista del romanzo guardando i treni in corsa dal finestrino del vagone sul quale viaggiava. Ah, è una bella invenzione, non c'è che dire. Si va in fretta, si viaggia meglio. Ma le bestie feroci rimangono bestie feroci e per quanto possano inventare meccanismi sempre più perfetti, le bestie feroci continueranno ad esistere. Quel treno sta andando a schiantarsi. È quella la sua fine. È quello stesso treno e l'idolo della modernità che porterà alla fine dell'Occidente. Scendi dal treno e inizi a respirare. Guardati intorno. Prendi il tuo tempo. Recuci le amicizie e l'amore. Guarda dentro te stesso. Lì c'è la chiave per uscire dal tempo, il biglietto dorato per viaggiare, magari in carrozza e lentamente, ma per avere con sé sempre un tesoro inestimabile e profondo. Quel tesoro è la tua vera esistenza e a quella bisogna tendere, ma per farlo bisogna rallentare e ricominciare, con la guida di un vero maestro, di chi può insegnarti ad ascoltare il profondo di te stesso, laddove la vita è lenta, ma ogni attimo sprizza di vita profondissima. Un caro abbraccio dall'ignoto.